È attivo da oggi su tutto il territorio della Liguria il numero unico di emergenza 112. Con l'avvio nella provincia di Imperia si realizza l'ultima tappa della regionalizzazione del servizio, già operativo negli altri territori. La Liguria, ha sottolineato oggi la vicepresidente Sonia Viale, è la seconda regione italiana dopo la Lombardia ad attivare il servizio. In caso di necessità tutti i cittadini liguri dovranno fare riferimento al numero unico 112. Gli operatori, dopo aver localizzato la chiamata tramite un sistema automatico e inquadrato la problematica, smisteranno la comunicazione ai soggetti competenti sul territorio, carabinieri, polizia di Stato, vigili del fuoco o soccorsi sanitari, a seconda del tipo di emergenza. Da oggi, infatti, le centrali operative dei quattro soggetti sono collegate con la sede della Centrale Unica di Risposta, situata al Policlinico San Martino di Genova. Una soluzione che garantisce la presenza 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno di supporto tecnico, logistico, amministrativo e l'utilizzo di tecnologie avanzate. Le telefonate e i contatti usuali, che non cesseranno di esistere, 112 carabinieri, 113 polizia di Stato, 115 vigili del fuoco e 118 soccorsi sanitari, verranno comunque indirizzate al numero unico di emergenza 112. Per la gestione dell'emergenza in mare è in via di definizione il percorso che porterà al collegamento della Centrale Operativa della Guardia Costiera, che risponde al 1530, con quella del numero unico. Sono stati assunti e formati 38 operatori, per i quali è previsto un percorso formativo continuo e mirato in collaborazione con l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza della Lombardia. È già disponibile anche l'applicazione gratuita collegata alle centrali uniche di risposta del 112, che consente di effettuare una chiamata di emergenza con il contestuale invio della posizione esatta del chiamante.